Dobbiamo continuare sulla giusta strada perché come a fase andata dobbiamo prendere i punti in questo periodo, dopo aver giocato le grosse squadre dobbiamo prendere i punti che trova la vena e all'inizio ci ha portato un po' di fiducia e spero che sarà ancora in casa. Il problema che abbiamo trovato prima è di trovare costanza e quando giochiamo siamo veramente conti un po' ovunque e quindi mi piace quando giochiamo bene. Gli obiettivi sono di andare il più lontano possibile, il più alto possibile nel campionato, di prendere i posti alti, continuare perché inizio di stagione non era quello che volevamo avere. Quindi adesso dobbiamo prendere i punti dove possiamo e andare il più alto possibile per i play-off e di giocare con la squadra al nostro libero. Però dopo sarà molto difficile, questo lo sappiamo tutti e continuare davanti.